A cosa serve la tradizione? In questa puntata risponderemo alla domanda partendo dagli etruschi per poi arrivare alle statue contemporanee di Marino Marini, che si definiva discendente degli etruschi. Nell'antichità l'arte greca si diffonde in tutto il bacino del Mediterraneo, influenzando anche popolazioni e culture indipendenti. Fra le tante troviamo gli etruschi, un popolo che ha vissuto in Italia intorno alle regioni del Tirreno Centrale nel 900 a.C. Della scultura etrusca è famosa la lavorazione in terracotta. Un esempio è la coppia di Cerveteri, quindi il sarcofago degli sposi. L'influenza dell'arte greca è visibile nei tratti del volto, dove l'attenzione per il dettaglio è visibile nel meraviglioso sorriso. Le statue sono animate dalla gestualità delle mani e dall'inclinazione dei corpi. L'arte etrusca la ritroviamo quindi nei ritratti dei defunti sui coperchi dei sarcofagi, oppure nelle decorazioni delle urne cinerarie, oppure all'interno delle scene affrescate delle conosciute e preziose necropoli. L'importanza del culto degli antenati non è però riconosciuta soltanto dalla cultura etrusca, ma anche dai contemporanei. Il protagonista di oggi è infatti Marino Marini, che nelle sue opere si rifà allo stile delle statue etrusche, tanto da essere definite opere d'archeologia moderna. Marino Marini nasce a Pistoia, in Toscana, e fa propria la tradizione di questa terra antica e ricca di storia. Si sente profondamente legato alle sue radici, tanto da guardare indietro fino agli etruschi, una popolazione antica da cui egli si sente di discendere. Infatti afferma, qui in Italia, il passato artistico penetra ancora tutta la nostra esistenza, perché viviamo nel mezzo delle sue opere d'arte. Il mio arcaismo, i miei etruschi, non c'è da spiegare tanto. Il mio io è nato lì, in quella regione. I miei nonni sono quelli. È una civiltà che ancora oggi esce dalla terra, qualcosa che alimenta ancora chi vi vive. Io mi sento estremamente legato a questa mia terra, a questo senso popolare, arcaico appunto, così vivo, così intelligente. Lo ha nel sangue, non posso levarmelo di dosso. La matrice etrusca si riscontra nella scultura in terracotta Popolo del 1929, presentata alla seconda mostra del Novecento Italiano, vera e propria rivelazione per la critica. Popolo che raffigura una coppia di contadini maremmani e richiama il sarcofago degli sposi di Cerveteri, rappresenta il capostipite dei ritratti, molto cari a Marino. Sono ritratti realizzati nel dettaglio, un po' enigmatici, come i volti scolpiti dagli etruschi, e assieme classici nella composizione ed estremamente moderni nell'espressione. L'arte etrusca e l'arte contemporanea di Marino Marini manifestano un particolare rispetto per gli antenati. Il forte legame è visibile nello stile, per esempio nell'uso della terracotta e nell'espressività delle figure, tanto da farci confondere e pensare che appartengano ad uno stesso periodo storico. È curioso, però, il fatto che Marino Marini non riprenda soltanto lo stile degli etruschi, ma anche l'amore per i morti, per gli antenati, che venivano riconosciuti dagli etruschi come i protettori della famiglia, ma da Marini come i protettori dell'intero popolo. Spero che questo video vi sia piaciuto, mettete un like e ci vediamo la prossima volta con una nuova puntata di Arte a Confronto.